Mister, a parte i dieci minuti di finale, una partita che sembra non essere mai stata in discussione? Dieci, diciamo cinque, abbiamo preso il gol quasi nel momento di recupero, però diciamo che la partita l'abbiamo condotta noi dall'inizio alla fine, facendo una grande prestazione di volontà, di giocate. Prepariamo molto bene queste partite durante la settimana, i ragazzi sono incommiabili per quello che mettono durante l'anamento e quello che poi esprimono la domenica. Sì, infatti la squadra ha dato l'impressione di essere padrone del campo, sotto il profilo del gioco, del palleggio, con il recupero magari totale anche di Zaghini, che l'abbiamo visto, forse ancora in cerca della miglior condizione, la squadra può veramente diventare ed essere protagonista sino alla fine? Diciamo che Zaghini per motivi di lavoro ha iniziato molto tardi, diciamo che si sta allenando continuamente da queste ultime due settimane che viene tutti i giorni, se no purtroppo per lavoro saltava un po' di allenamenti. Noi aspettiamo molto da lui, ci aspettiamo molto da lui, perché è un ragazzo che per queste categorie è un benaverlo che a voi andrà a favore, che contro. Lo aspettiamo, lui ci mette tutto lo suo, quello che deve mettere durante l'anamento per farci trovare pronto, il mister ha grande stima di lui e mi permetto di dire una cosa, la nostra forza è il gruppo, credetemi, noi abbiamo 18-19 ragazzi, chi gioca la domenica è quello che esprimo durante l'allenamento, ma grazie a chi gioca poco, perché fa in modo che loro per giocare devono dare tutto e si vede come giochiamo.